Il piccolo Luca morto per il caldo lo ha confermato l'esame effettuato oggi sul corpicino del bimbo morto in macchina martedì scorso. Domani funerali in forma privata come chiesto dalla famiglia. La mamma chiede silenzio e rispetto. Monsignor Ambrosio vi staremo vicini. Piazza Cittadella riaffiorano reperti. Gli scavi nel lato adiacente Piazza Casali riportano alla luce un vecchio arco con mattoni ma il cantiere per il parcheggio interrato va avanti. L'usenti centrale 118 progetto a fine mese l'assessore alle politiche della salute era oggi a Piacenza ha parlato del possibile accorpamento della centrale 118 dopo le numerose polemiche sollevate in questi giorni. L'ipotesi non è esclusa. Decine di mine rimosse in Libano dai pontieri rientrata dalla missione internazionale la compagnia di 70 uomini del secondo reggimento di Piacenza. Il bilancio è positivo notevole l'impegno per lo sminamento del confine con Israele. CNA Costantini confermato al timone guiderà l'associazione per altri quattro anni presentati oggi anche i nuovi presidenti delle unioni di mestiere.